Ok, l'ultimo lo faccio dopo. Nel caso domenico devo alzare i machi. Shadow! Grazie al settimo mese, tutto bene, grazie. Nasta, dove stai? Ciao, Tony, buonasera! Dove cazzo devo andare? Ho una quadrigine di là. Però ho tre, quattro persone qua a me. Oh, gli ha detto il coltello in testa. Allora, cerco di chiudere questo chase abbastanza esperto anche se non ci riuscirò. E' un m1 qua. Buono. Così lo sluggo. Perché voglio forzarli lontani dai loro gen. Dalla quadrigine. Perché voglio forzarli lontano da questi gen. Che probabilmente stanno facendo. Perfetto. Pricchiappiamo lei, così blocchiamo magari qualche progression. Perché adesso abbiamo già un bel po' di value, un bel po' di pressure. Ok, esploso sto gen, vuol dire che è esattamente in questo punto qua. Che cosa ho sentito a urlare. Nice. Dead bug daylight. Abbastanza. Abbiamo già un'impressione assurda, così. Se continuo in questa maniera il game è già finito, in teoria. Ci prendiamo un secondo abbraccio, col secondo eco. Adesso. Non so se ci fa ancora quello. O magari quello lì in fondo. Più probabile. Buonasera, la russa. Segurità da mobile la trovo molto complicata, immagino. Non so, già non è al 15%. Il save ci sta. Questa si è arresa perché è tanelo. Movimento delle telecamere. Cosa fare perché a destra? Quando appendi un sopravvissuto per la prima volta al gancio, ti dà una stack. Quando prendi la stack, blocca tutti i generatori per 10 secondi. Se ti allontani abbastanza dalle cose. Dal gancio. E quando prendi la quarta stack, li blocca tutti per 40 secondi. O 45. Crico, ya. Il prossimo personaggio sarà il killer di Castlevania, in teoria. Forse il primo gioco è surpra. Ah, ma c'è già il massimo in quel tempo. Ha fatto qua. Ah no, c'ha... C'ha daily questo. Avrà anche DS, probabilmente, ma tanto ho il... Dovevo rompere questo il pallet prima. Dovevo rompere il pallet prima. C'è solo con licenze per i ragazzi. Mi sa per scadere tanto. No. Nice Andrà anche per lei Hanno fatto solo un gem Ma gli stiamo dando una pressione veramente troppo alta al momento Vabbè Snake Porco due ho finito il coltellino Se l'avessi preso con l'ultimo coltellino O con un coltellino comunque in più Vabbè stato god Mi manca da prendere il pen Vero Guadagniamo dove possiamo Prendiamo il look Sì Armo Supremo fa troppo cagare secondo me adesso L'ho visto che si curano A quanto pare meno male Sì sono d'accordo anch'io Come giocatore di killer L'arma Supremo era veramente ignobile Ciao beta Buonasera caro come stai Era abbastanza sad Triste come per E anche fin troppo rotto Poiché l'avevano reso poi Un'aura reading era anche più forte Beh era diventato veramente tanto rotto Riesco a prendere un coltellino Grazie Grazie Almeno uno mi serve Perchè li sono OP che non è OP Ah l'hanno già tirato fuori In nerfato Ok Non mi ricordo dove cazzo li avevo appesi Onestamente Ah è qua ok Mi è sembrato di vederlo qua almeno Ah ecco infatti Lui è ADS AD Dardo cioè E non l'ho usato E lui è morto In parte random ho dato il consiglio a chi A giocare al save the best In sbrutata rapida E se a quest'ultimo non so Qualc'è il tizio mi dice Io thanks Bufo Non so cosa vuol dire bufo Bro Vabbè ma non è obbligatorio giocare al save the best Comportare il tacco E' una buona scuocca però Non è obbligatorio Ma la fango è contratta Che non l'ho ancora trovata in pratica Dai non ci passa sul serio Vabbè dai Che scam Beh gli dovevi dire Vieni nel canale di snake E prova a scrivere punto scannativo build Eh Scusi eh Faccio pubblicità al canale Eh Io trovo un friendly team durante un adept Poverle le loro anime Ah no ma è lei che mi mancava per ultima Quanta fango l'ho già appeso E quanto cazzo l'ho appeso Forse all'inizio Boh Ti faccio qualche piercing in più all'ombelico Dai L'hai fatto? Dai ma si scherza Si scherza Ma se colpisco No Hanno Hanno hitbox Ma raga possiamo Dire alla behavior Di mettere oggetti Cazzo Killing floor C'è là Ste cose Scolpisce un oggetto Esplode Porco due Mi fate il tale Lancia un coltellino Su una birra Cazzo Esplode la birra Si inficca Nella De cosa Porco due Non lo so Viene sparata Nella stratosfera Non lo so Onestamente Nassa Nei che non mi curi abbastanza Ma se sono Lancia fiamme Se vuoi di tiro con lancia fiamme No Non l'ho provato Signo Ma non Non mi ispira più di tanto Non ho guardato neanche un gameplay Devo essere onesto Ma non mi ispira più di tanto Mio sneak Non sia scurrile Chissà che farebbero Ma no Rialen Già in 5 Adesso Potrebbero farlo Cazzo B e g dev di mortal kombat ma non ha scoreggiato eh niente buona notizia stanno facendo killing floor terzo si lo so franco lo so infatti sto aspettando che esca dai che palle sto andando in giro a casa un gancio che avevo visto con la coda dell'occhio che era rotto wow che forte che sei salti le finestre sei strong ma mi hai matato il primo cazzo di schifo palle dai su ma c'è un nuque rimasto porco due no ma ci so per farmare punti e allenarsi in 1v1 anche per il chase rimangere certo un coltello in bocca e via però cazzo possiamo fare un buff agli scourge cazzo che non si rompono gli scourge minchia se mi triggera come cosa non vedo l'ora di cambiare postazione così posso anche risistemare la webcam perché mi sembra un tappo sono troppo basso che palle lasciala per terra ogni live non mi metto a fare ste cose ci vuole troppo tempo ok non è così basso questo ciao 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 ciao